Eccoci ragazzi finalmente siamo arrivati day one special day evento apple oggi alle 19 italiane subito dopo l'evento farò un video con tutti gli approfondimenti del caso quindi innanzitutto spaccate questo video tra commenti e like e poi vi aspetto questa sera per tutti gli approfondimenti evento apple dove vedremo di tutto e di più mettetevi comodi facciamo un recap dei rumors e dei leaks di tutte le ultime ore minuti e settimane così vi infarino un po' e vi preparo per l'evento di questa sera come sempre prima di iniziare vi ricordo lo sponsor del video e nebba ogni acquisto che farete link in descrizione supporterete il mio canale troverete di tutte e di più dalle gift card agli abbonamenti per tutti i tipi di console ma anche gift card per amazon itunes netflix e chi più ne più ne mette vi ricordo il mio canale di telegram per offerte giornaliere di amazon e per non perdere i video e gli shorts giornalieri ma non ci perdiamo in chiacchiere perché vi ho detto oggi alle 19 evento apple in diretta lo potrete seguire direttamente su youtube lo potrete seguire direttamente sul sito ufficiale apple lo potrete seguire direttamente dalla vostra apple tv avete diversi modi per seguire l'evento cosa vedremo ovviamente la nuova line up di iphone 16 tutti i nuovi sistemi operativi da ios 18 a macOS sequoia a apple os tv e via dicendo vedremo anche watch os scopriremo più che altro per quanto riguarda macOS sequoia a mio avviso la data di rilascio e soprattutto ci sarà la vera e propria presentazione ufficiale dell'intelligence apple intelligence intelligenza artificiale di apple che arriva finalmente con ios 18 vi ricordo apple intelligence sarà presente dall'iphone 15 pro fino all'iphone 16 pro max quindi sei dispositivi che supporteranno l'apple intelligence per quanto riguarda i mac e appunto gli ipad con tutti coloro che hanno i processori m potranno avere l'apple intelligence e apple intelligence come già vi ho anticipato avrà sarà castrata qui in europa anche qui in italia quindi vedremo sinceramente l'intelligenza artificiale sui dispositivi il prossimo anno poi ricordate il video dove vi spiego se comprare o non comprare l'iphone se conviene passare dal 15 al 16 e quale 16 comprare così almeno vi fate una bella infarinatura ma non ci perdiamo in chiacchiere in 3 array subito a gamba tesa su le specifiche che sembrerebbe avere i nuovi iphone tramite questa grafica di apple intelligence che ringraziamo partendo da un iphone 16 che avrà un display da 6,1 60 hertz come refresh rate sempre design in alluminio chip a 18 l'intelligenza artificiale 12 megapixel ultra wide avrà un'apertura di 2 rispetto a quella 2 4 attuale dei 15 zoom e 2 per wifi 6 e batteria da 3561 mAh il 16 plus avrà un display da 6,7 con refresh rate sempre a 60 hertz cambia l'unica cosa la batteria per il resto tutte le altre specifiche identiche al 16 base un 4000 mAh sul 16 pro e il 16 pro max avremo un aumento di display 6,3 e 6,9 rispettivamente 120 hertz ovviamente di refresh rate design e quindi struttura in titanio dovremmo avere una struttura e soprattutto una scocca con un titanio più liscio rispetto a quello spazzolato attualmente nei modelli 15 pro e 15 pro max chip a 18 pro anche qui l'apple intelligence e l'ultra wide che appunto switcha dai 12 megapixel attuali ai 48 megapixel zoom e 5 per che arriva anche sul 16 pro wifi 7 e batteria rispettivamente da 3355 mAh a 4676 mAh sul pro max e finalmente secondo le ultime descrizioni dovremmo avere anche sul taglio base del 15 pro i 256 gigabyte queste le specifiche tecniche vi aggiungo due notizie importanti il 16 ma adesso andremo a vedere i colori sul retro cambierà la disposizione delle fotocamere quindi non più obbligue ma in verticali il pro vedrà il pro max vedranno come ad esempio su tutta la nappe del 16 il tanto chiacchierato tasto cattura che permetterà appunto di scattare la foto con molte più semplicità di zoomare di registrare video con un pulsante che appare in basso a destra l'abbiamo visto in tutte le salse nei giorni passati recuperare tutti i video e gli approfondimenti anche come funziona il tasto cattura eccetera eccetera inoltre l'iphone 16 pro iphone 16 pro max dovrebbe avere anche una nuova gestione termica efficientamento termico relativo alla batteria con l'involucro in metallo e non più in plastica display si vuoi cifra anche maggiori nits di luminosità e anche una proprio una maggiore luminosità sotto al sole ci ritorneremo sicuramente poi dopo l'evento di questa sera vi ho detto che vi avevo parlato dei colori i colori sono quelli al momento questi licati da un bianco che appunto subentra al posto appunto del giallo il rosa il verde e l'azzurro mentre sulle versioni pro vedremo le stesse colorazioni dell'anno scorso se non il titanio naturale che sembrerebbe essere più vicino ad un grigio e l'introduzione della versione oro bronzo desert titanum quella che vedete tutta a destra di cui si è parlato veramente tantissimo in questi giorni e settimane ma stasera vedremo solo e soltanto gli iphone 16 o altro secondo le indiscrezioni dovremo vedere l'apple watch tutti e tre quindi l'ese che dovrebbe avere materiali ancora più economici per mantenere invariato il prezzo se non leggermente più basso l'apple watch ultra 3 e ovviamente l'apple watch serie 10 per i 10 anniversari dall'uscita e poi dovremo vedere secondo le indiscrezioni solo e soltanto l'airpods 4 mentre le pro max non le dovremo vedere non dovremo vedere neanche i modelli pro ma al momento sono ancora indiscrezioni le ipad mini vi ho detto se ne riparlerà probabilmente ad ottobre degli ipad non si è saputo nulla chi stessa sarà presente questa sera vi tengo aggiornati strada facendo ma andiamo a vedere le specifiche di quello che sembrerebbe essere il nuovo apple watch serie 10 con due diverse scocche se vogliamo definirle così 45 mm o 49 display che diventano più grandi rispettivamente da 1,89 pollici a 2,04 pollici e ovviamente cornici più sottili chip s10 rilevazione dell'ipertensione e anche la rilevazione dell'apnea notturna lancio secondo le indiscrezioni a settembre inoltre sempre questa sera dovrebbe essere presentato l'apple watch ultra che non dovrebbe avere praticamente nessuna novità eclatante se non il chip s10 un display che dovrebbe gestire al meglio la l'energia stesso identico design e si può cifra di una colorazione più scura e ovviamente le due funzioni della salute che vi ho parlato precedentemente l'S come vi ho detto solo e soltanto sembrerebbe gestione di colorazioni e materiali l'airpods 4 ne dovrebbero uscire invece due nuovi modelli uno diciamo economico uno con maggiori novità tra cui la rilevazione e la cancellazione dei rumori quindi una versione dell'airpods 4 vedrà una funzione che prima era esclusiva dei modelli pro ci sarà il design a quanto pare aggiornato sembrerebbe che sarà introdotto anche l'h2 come chip bluetooth 5.3 miglioramento audio nuove funzioni per quanto riguarda l'ascolto audio un nuovo case con nuovi speaker con una migliore gestione della batteria sempre lancio a settembre e l'arrivo dell'USB-C come già vi ho detto le airpods max stasera non se l'aspetta nessuno staremo a vedere se arriverà la notizia sa di fatto che dovrebbero avere anche loro il chip H2 con il bluetooth 5.3 l'ultra wideband chip di seconda generazione nuovi colori USB-C anche qui una migliore durata della batteria ma il design non dovrebbe minimamente cambiare a riguardo questa ragazzi è un'infarinatura generale secondo leaks e rumors di quello che ci aspetta questa sera al momento nulla di questo è stato confermato da Apple vi aspetto subito dopo l'evento per entrare a gamba tesa con tutte le notizie ufficiali grazie per il supporto un bel mi piace un bel commento e ci aggiorniamo più tardi